Giacomo Cenetti, protagonista di una prestazione veramente eccezionale oggi, per almeno un'ora sembrava di vedere il gattuso dei tempi migliori. Mi fa piacere, finalmente ho trovato la condizione che aspettavo dopo l'infortunio, sto bene, il mister lo sa e poi anche se ho giocato per l'assenza di Perini non ci sono problemi perché questo è un gruppo eccezionale, partendo da Quillosi, Sogus, Perini e io siamo tutti degli ottimi centrocampisti e quindi per giocare c'è da lottare e conquistarsi il posto. Per adesso il mister mi ha fatto giocare anche abbastanza venendo dall'infortunio. Sono contento per la prestazione ma soprattutto sono contento per i tre punti che erano importantissimi. Nel finale cos'è successo? Perché per un'ora e un quarto in campo siete stati solamente voi. Nel finale Poggi Ponsi ha cominciato un pochettino a mettere fuori la testa, vi ha spaventato con quel tiro neutralizzato bene da Bastianoni, l'episodio del gol annullato che ha fatto correre più di un brivido ai tifosi bianco-rossi ma comunque la sensazione è che per almeno 8-10 minuti un pochettino aveste tolto i piedi dall'acceleratore, forse stanchezza o paura di vincere, una partita che sembrava quasi stregata perché non riuscivate a raddoppiare e a chiuderla. No, non è né stanchezza né paura di vincere, però ci sono queste partite che purtroppo non riuscivamo a chiuderla, partendo da quello che non sono riuscito a fare io, Fabiano, e quando la squadra voleva portare a casa i tre punti siamo messi lì aspettando che loro iniziassero le azioni, però per fortuna ho trovato nel gol sul contropiede, quindi per me non era né stanchezza né paura perché Carpi è una squadra che non ha paura di nessuno, su tutti i campi dove andiamo dimostriamo di essere una grande squadra, quindi è stato solo un caso dovuto forse al fatto che non riusciamo a chiudere l'attita e eravamo un po' preoccupati per questo.